Eccoci qua, è iniziato il nuovo anno, è iniziato con clima ancora piuttosto freddino e continueranno queste discese di aria fredda proprio diretta verso il nord Italia. Giornata del 2, ancora all'insegna del maltempo, con nevicate al mattino guardate sin verso le pianure. Poi però nella seconda parte della giornata la quota neve tenderà lievemente ad alzarsi ma comunque di bassa collina, quindi comunque quote sempre piuttosto basse però un po' tenderà ad alzarsi la quota neve e vedete appunto il tempo sarà piuttosto capriccioso, grigio e con delle precipitazioni. Insomma un avvio d'anno piuttosto movimentato all'insegna del maltempo perché comunque le perturbazioni che ci hanno fatto compagnia negli ultimi giorni dell'anno, del 2020, adesso continuano ad interessare la nostra penisola in ingresso da nord verso sud. Per il momento è tutto, amici di Rete7, ancora buon anno, arrivederci!